benvenuti ne facciamo un'altra però questo andrà a settimana successiva quindi la gente non lo sa oppure elimineremo quella precedente siccome ha fatto schifo beh però si in effetti potremo anche eliminare guardiamo come viene questa e poi sono entrambe mediocri le teniamo entrambe perché siamo brutte persone ok questa è barcraft e non è il bar di starcraft cioè si lo potrebbe essere ma solo io le trovo inquietate questi disegni no sono bellissimi questa è la versione di bang per starcraft o di starcraft per bang ci vorrebbe dell'alcol per questo giorno vado giù e come funziona funziona come bang cioè ci saranno i ruoli però funziona così volevo leggere ruoli che in versione di barcraft il proprietario del bar il rosso potete leggerli alla destra dello schermone dove state vedendo deve sconfiggere tutti gli ubriachi e così come il pessimo barista il butta fuori no il butta fuori quello giallo assiste il proprietario del bar gli ubriachi devono sconfiggere il proprietario del bar il proprietario del bar deve sconfiggere tutti lasciando per ultimo il pessimo barista il pessimo barista devi sconfiggere tutti lasciando per ultimo il proprietario del bar è bellissimo te devi ancora caricarsi è colpa tua finito eccoci che cosa sei? io sono bodyguard e te ma perché non devi guardare? e però tu vedevi il mio ok e bang qual è? è bellissimo sì io posso giocare ok chiudo chiudo il tutorial ma anche te c'è una carta coperta perché non uno in meno? ah perché è la vita ah scegli il personaggio non c'era arrivato sono ritardato scegli il personaggio cos'è la rage? non lo so sto cercando di capire vai è la vita la rage? non lo so magari ne facciamo un altro ok quello è lo sheriff cioè il proprietario del bar ok c'è il tutorial della prima parte tu dove sei? dart? ok eccolo tu dove sei? desa sei dopo di me che cos'è? il bash e il bang penso hai sparato ma chi? il proprietario del bar mi sembra a me c'è qualcosa che sta succedendo sì e ho preso un bash infatti ah forse tu devi giocare eh sì potevo giocare qualcosa non so non l'ho preso aspetta allora gli devo leggere le carte e mi ha messo no io ho doggiato ah avete fatto un duello forse ho preso un danno non so capisco cosa sta succedendo ah questa è la pila non so perché sta succedendo tutto nella mia pila ma succede anche te stiamo mani di bagna ok succede anche te in basso a destra ah io sono ok tu sei prima ma chi sta adesso? non lo so a te a me ti hai piscato due bash ah dai dai non mi fare il bash che voglio subito se devo castare io confirma ma lo fai a me veramente? sì dai sei un strunzo non posso cliccare niente cazzo vuoi eh un attimo ti basho aia cruiser put the card into your own e va bene confirma oh mi stai infamando alleati ma hai passato ah sta a me ok non ho capito come sta andando sto giro cioè evidentemente ma in senso anti-orario quindi io sono prima di te non lo so perché ho scelto tutta la mano? non lo so ma non è ma e perché è passato il turno? che sta succedendo? ma perché mi da ah perché ho clicca il suo fk sono lo stronzo togliti e mi sono tolto non sono in fk no 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 anch'io sono ma che mi tardo ah è fantastico il coso è il l'emporio affanculo sono preso un dodge un altro? un altro? una nonna cavalla golosa ahia un dodge un dodge un dodge eh cazzo vuoi non ne ho questo è un infamore che guarda i ruoli cosa ha messo? pesca due carte ma oh hai finito schifoso ok si è passato si è passato si ecco come stai male mamma mia e ho scelto perché ho scelto quattro carte? ah perché potevo che massimo giocarti in mano che stronzo ok ok lui ha sparato ha doggiato lui è un bandito palesemente ma si sanno i ruoli stronzo loro credono che tu sia il bad bartender quello che sono io stai giocando bene attacca ok a posto lo attacchiamo ok non sono ancora giusto da fuori un turno ma cosa succede se vai nel rage? ah boh peschi due carte che devo fare? passa 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 devi confermare le carte che passi si no no ok ah ma puoi sparare più di un bang? col trash can ok è tipo il il la la come cazzo si chiama? puoi sparare infine il bang duello si è come la la cosa la il rimuardo come si chiama? ok il vulcano si ci sono troppe stats le hai lasciato a due si ha doggiato il mondo sparagli hai finito le cose che cazzo vuoi ok devo fare conferma per giocare se devi giocare la carta e selezionare il bersaglio se hai un bersaglio ok basha megamind cos'è questo? come si usa l'abilità? qual è l'abilità? la mia non lo so non so nemmeno cosa fa la mia ok forse questo dovremmo rifarlo tu non mi dici darti no perchè mi stai divertendo lui ha bevuto una birra capito? chi? i megamind? no l'hai cercato ah l'hai cercato ha bevuto una birra uno può bere la birra e beh io ho finito passo si aspetta che finisca il tempo li devo scartare perchè devi scartare? è perchè ho due di vita e tre carte in mano vero vero non so cosa fa del rage non ho ancora capito quindi o sta uno eh megamind non so che era lo sceriffo ora cioè il bartender il bartender il discorso è che pesca una carta no ne pesca tre ne pesca tre se le meccaniche sono rimaste uguali e credo proprio di si io non volevo il panda cosa fa la tua abilità passiva quando arrivi a tre? dice che i bash non generano più rage che faccio sugli altri eh ma non ho capito che si fa con rage ma chi lo spara il bash? blef che sta facendo? non lo so dodge non lo so cosa sta succedendo? è troppo veloce non riesco a non cercare sta pescando tantissimo ma perchè sto sceriffo è così pro? cioè abbiamo capito steampack spara un bash morto è morto birra birra no è morto e invece no ho usato la birra? dead I'm drunk no ah si può salvare no die drunk non voglio andare vabbè e fa il turno in tutti per chiedere se lo vuoi salvare stiamo levate dal fk levati dal fk non riesco a togliermi dal fk è passato perché? e ora non sei in fk ora non sono in fk addio santo c'è entrato sta a te bash 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 ha scartato bash 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 lo sceriffo steampack make your next bash in turn deals one more damage if you are then cover voilà oh ci pensa neanche non me lo sparare non me lo bash ah meno male rampage main pace in order another player must show a dodge card otherwise hai scartato do dodge io sparo a Jimmy giusto per rimanere io te lo sceriffo dai ti prego te che mi hai sparato due danni stronzo appena ha scritto che prossimo vorrei sei tu tra parentesi ah no ha scritto Jim ok si è preso un danno Jim cosa fa quello rimuove rimuove una cosa una carta di mano gli leggo il mirino a chi l'hai tolto a Jimmy dove si vede le carte che hai equipaggiato in basso dove in basso gli isilotti in basso sotto ritratto ah io cos'ho ho un cruiser giusto te l'ho anche messo prima io doge io ho uno però un bluff target cancel non voglio morire adesso facciamo facciamo fuori Jim poi pensiamo a te che non ti preoccupare mettiamo Jim insieme poi mettiamo lo sceriffo perdiamo tutte e due lo so com'è bello Bang quanto cazzo ha scattato? ha scattato tre carte ok e basta è andato il turno poteva arrivarci della roba ah no perché non ci vede è vero Bash su chi? su Jim su Jim perfetto che grande sceriffo ha capito tu ma l'ha detto lui di sparare a Jim intanto persona Jim intanto tra parentesi lo sceriffo dai bashiamo sto sfigato no lo vedo a due cosa hai fatto Death? che cos'è Death? and Bash Jim I go on no non posso sparare gli altri non li vedo no ma è già finito vaffanculo vuoi scegliere cosa cattare? un bluff uno due due bluff vaffanculo non mi piace eh sei troppo lento eh bescia Jim bescia Jim bescia Jim grande cosa fa quello? no ho passato sono uno stronzo che è successo? mi sono perso qualcosa puoi scartare due carte per fare il tuo bash che non può essere indoggiabile se hai preso un dan lo sceriffo andrà a pescare altre tre questo sceriffo pesca e basta sembra che non sape fare altro non ho capito con la rage che succede ah succede questo puoi scartare due carte per non far dodgiare il bene ah ognuno io sono drunk fest non l'ho capito non l'ho capito è complicata adesso volevo seguire la giocata di Jim pesca due eh Jim sta messo male però cinque carte in mano eh sì ma ne potremmo una sola in mano se non è sicuro ma lui può giocare le carte di bash come se fossero dodge e viceversa Jim sì Jim è come cosa? come si chiama? sì vabbè Terence Hill come si chiamava? TV e lui è l'eroe? cioè il prete? il prete è buona in la mucca la mucca when is wounded she can judge rage bash verso? ah può girare una carta ho capito ma ha scartato il rage bash ma che è FK Jimmy? non lo so non lo sto capendo sto cercando when I am ok ha passato e vince lo sceriffo lo sceriffo ha seccato sì ha fatto un sacco non sai che siamo io e lui contro te vero? sì ma lui pensa che tu sia il bad battender lo so però lui ha finito gli spari e te? ma che schermata? io ho il jukebox ho zoomato sulla tv io per sbaglio ma ci vorrei tornare indietro ma non ci riesco anche tu hai zoomato sul sì da te ah sono riuscito a uscire ma addio santo ogni volta sei un FK no è che mi distraggo scarta due dodge non ha dodge ha un solo dodge ma che fai mi spari con quali carte cosa fai? mi togli una carta a caso? non so mai che cosa ma è tolto il bash non ci credo più culatore non potevi essere troppo tardi no no ma non volevo giocarlo non volevo giocare il dodge rage non so cosa ho fatto dodge ho doggiato no però hai preso due danni ma sta succedendo hai preso due danni ma sta succedendo ok scarta questa fase scarta una carta eh se lo dodge ma a posto e il dart dart stronzo di merda ma è ancora vivo quello? ma come? non avevo accorto sei l'infame e ha pure giocato una birra ma era morto no 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 qui c'è da rivedere il replay non so capendo che succede che hai giocato? bluff a te oh lasciamolo ah e costa rage si non so cosa ha fatto rage perché non hai giocato questo che fai scelto dopo i danni e lo uccidevi? perché non l'ho letto no 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 non l'infk non l'infk io voglio questo gioco oh 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 cos'è appena successo? perché sono morto io? non sei morto no si monster defeated hai sparato a me e io non guardavo neanche perché guardavo il tuo schermo ma sei uno strozzo e ora sanno che io sono in vice quindi adesso devo vincerla bluff yeah non lo so è l'unica che non conosco questa mi fa fare due al prossimo bang e questa mi fa fare deve mostrare un dojo oppure muore cioè perde una vita cos'è questo? cosa fa questo? cosa fa questo? l'unica è to play e bash e non ce l'ho un bash fin ha perso una vita e ha sparato entrambi è un altro e sei morto oh ho lo steampact che teoricamente potrebbe farmi dare una vita sta scartando? no sei morto sei morto è morto Desa che pippa Desa e invece no steampact bitches che stronzo Desa dai passai uno strozzo mi ha deciso me e ha lasciato Jim vivo è la dura legge del gol cosa fa quella super birra? si è fullato ma era già full? o aveva perso una vita? è un danno vabbè mi vedo adesso devo ammazzare Jim un bash devo pescare un bash bash grande conferma su Jimmy conferma dovevi usare buono sì dovrebbe essere morto dovrebbe essere morto dovrebbe essere morto do you want to buy Jim Reynald? non vuoi la birra? no no cance oh cacchio mi voglio il giallo è pescato è pescato il ruolo dai dai equipati equipa equipa cos'è cosa fa questo? è chi tu equipa hai troppa roba in mano perdi due rage conferma posso giocarla? non lo so non importa ok levi un oggetto levaglielo 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 questo il cruiser ok vai nel rage vai nel rage vediamo se ce l'ha il dodge madonna si no ce l'ha il dodge ok il rage il rage cosa fa? vai nel rage ti dà due rage no gli dà due rage ma è inutile a te le dà no mi fai un cazzo mi programma hai dato a lui era già full rage ok dai scarta discarta diciamo non è un bash uno 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 devi scegli quello è mezzo come hai recato uno di vita? non lo so mi spara il mondo a sei carte in mano bang 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 aia eh lui può usare no cosa può? è morto era in rage eh ho vinto è arrivato secondo ho vinto ho vinto ok basta è veloce sto gioco però è bello beh non è lentissimo è solo da capire eh sì bisogna leggere le carte come bang è come bang basta leggere le carte grazie di averci seguito e ci dirigiamo verso l'uscita di questo barcraft grazie di averci seguito grazie di averci seguito